5 milioni di euro. Dati turismo Regione Marche per il 2017 è un dato molto importante perché si confermano sostanzialmente le presenze dello scorso anno, qualcosa in meno negli arrivi, più italiani che stranieri, ma certamente un sistema che è partito con un calo importante di prenotazioni nel periodo invernale ha riuscito a recuperare i numeri, quindi garantire al settore occupazione, presenze, attività e tutto il resto. Noi crediamo molto nel valore del turismo, il secondo motore economico della Regione, come uno strumento attraverso il quale non solo possiamo fare i numeri degli anni precedenti, ma vorremmo crescere. Questo è ovviamente un anno molto particolare, riuscire a dare questi risultati è un bel messaggio per la Regione, per i cittadini e per il sistema. Si continua a investire e a crescere su tutte le direzioni, dalla promozione turistica come c'è stata forte quest'anno, al tema degli investimenti sulle strutture, dopo molti anni in corso un bando che permetterà a tante strutture ricettive di riqualificarsi, di sposare le emissioni che più interessano, quindi dare potenzialità in più in termini non solo di ricettività, ma anche di qualità dell'intervento nei confronti del turista. Destagionalizzazione, simbolicamente la grande mostra dell'8 per il 2018, una delle più grandi che si terranno nel nostro paese e nello stesso tempo sono un'attività, soprattutto in chiave culturale, in grado di portare fuori stagione tante persone nelle Marche. Un messaggio positivo sul quale costruire le politiche del futuro.